L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. La sanità al centro dell'incontro tra il ministro Speranza e il governatore eletto della Calabria Occhiuto rinnova la richiesta di gestire direttamente il contatto. I contagi aumentano da qualche giorno e Saveli e Scandale, due comuni del Crotonese, finiscono in zona rossa fino al 10 di ottobre, lo risponde la regione. Froda internazionale, traffico di droga, 14 arrestati in Italia e all'estero, colpito il clampelle, sequestrati i beni per oltre 13 milioni di euro. La mobilità sostenibile per il rispetto dell'ambiente, sono nuovi mezzi green che il parco del Pollino ha consegnato da alcuni comuni. Passo in avanti per il distretto del Cibo, terre di Pitagora. Tra qualche giorno il progetto della regione Calabria, un lavoro di squadra per la crescita del territorio. Ben trovati mercoledì, mercoledì 20 ottobre 2021. Ben trovati sul 18 per l'informazione regionale di Esperia TV. In apertura i temi di attualità e della sanità calabrese. Non sono ancora stato proclamato presidente, ma sto già lavorando a pieno regime per il futuro governo della regione. Oggi a Roma ho avuto un positivo confronto con il ministro della salute Roberto Speranza, con il quale ho un ottimo rapporto personale. Abbiamo naturalmente parlato della situazione della sanità in Calabria. Lo dice Roberto Occhiuto, presidente eletto della regione. Dopo oltre dieci anni di commissariamento è giunta l'ora che la responsabilità di questo delicatissimo settore torni ai calabresi, in capo al presidente che i cittadini hanno votato poco più di due settimane fa. Per raggiungere questo obiettivo incontrerò, dice ancora Occhiuto, presto anche il ministro dell'economia Daniele Franco. Con il governo nazionale ne sono certo, conclude Occhiuto. Ci sarà una concreta e proficua collaborazione. Vediamo il servizio su questa notizia. Ha incontrato a Roma il ministro della salute Roberto Speranza per parlare della situazione della sanità in Calabria, il presidente eletto della regione Roberto Occhiuto, che ha un ottimo rapporto personale con il titolare del ministero di Lungotevere. Dopo oltre dieci anni di commissariamento è giunta l'ora che la responsabilità di questo delicatissimo settore torni ai calabresi, ha detto Occhiuto, in capo al presidente che i cittadini hanno votato poco più di due settimane fa. Per raggiungere questo obiettivo, a proseguito Occhiuto, incontrerò presto anche il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco. Con il governo nazionale, spiega il nuovo governatore, ci sarà una concreta e proficua collaborazione. È probabile che nei prossimi giorni, stiamo su questa notizia, è probabile che nei prossimi giorni il governo nominerà commissario il presidente della regione, in questo modo si riparerà ad uno strappo istituzionale che va avanti da 12 anni, ma che è assolutamente insufficiente da solo per risolvere il problema della sanità in Calabria. Lo dice Amalia Bruni, leader dell'opposizione in consiglio regionale, che il presidente diventi commissario, prosegue la Bruni, un fatto che si rivelerà utile, ma che da solo non risolve. Quindi occorre ben altro che una semplice nomina per la Bruni. C'è da avviare una trattativa seria, probabilmente anche serrata col governo, per ridefinire gli strumenti a sostegno. I contagi non si fermano e ci sono due comuni, tutti e due in provincia di Crotone, stiamo parlando di Savelli e Scandale, che finiscono in zona rossa, così come è disposto con decreto della regione. Il presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato un'ordinanza con la quale viene istituita la zona rossa nei comuni di Scandale e Savelli, nel Crotonese, diventati focolaio di Covid-19. Le misure sono in vigore per 10 giorni fino a tutto il 30 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Crotone ha comunicato che a Scandale si registra una situazione di criticità in termini di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con un numero di casi negli ultimi sette giorni pari a 22 e ulteriori nove soggetti già risultati positivi al test antigenico rapido, con una incidenza superiore ai valori di allerta in rapporto alla popolazione residente e un possibile focolaio in espansione in relazione al numero potenziale di contatti stretti del caso indice. A Savelli, prosegue l'ordinanza regionale, si registra una situazione di criticità in termini di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con un numero di casi attivi negli ultimi 14 giorni pari a 24, dei quali circa il 62% registratisi negli ultimi sette giorni, con una incidenza superiore ai valori di allerta in rapporto alla popolazione residente. E a proposito di contagi, il sindaco di Isca sullo Ionio, Vincenzo Mirarchi, ha disposto oggi la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune che presiede la chiusura prevista in base a un'ordinanza sindacale. Da oggi fino al 30 di ottobre, considerata l'emergenza Covid, l'accertata positività di alcuni stretti contatti di alunni delle scuole ricadenti nel territorio comunale. A Isca sullo Ionio è deceduta anche la terza persona contagiata a Covid-19, ricoverata in terapia intensiva appartenente alla stessa famiglia. Anche l'istituto alberghiero di Soverato è stato costretto a disporre la DAD in una classe per una luna positiva proveniente dal territorio interessato dal provvedimento. E poi c'è la vicenda delle vaccinazioni, il Green Pass obbligatorio. Oggi il commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha chiesto alle regioni di autorizzare le farmacie ad effettuare i tamponi anche fuori dagli orari di apertura e nei giorni di chiusura. Vediamo. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha chiesto alle regioni di agevolare le farmacie affinché possano continuare a effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura e possano eseguire i tamponi anche nei casi in cui i soggetti non si siano prenotati. Lo rende noto la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Le farmacie sapranno sfruttare questa opportunità per rendere un servizio ancora più efficace ed efficiente. Intanto sul fronte vaccini interviene Andrea Costa. Per il sottosegretario alla salute è ragionevole pensare che tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022 si proceda con l'allargamento della platea per coloro che dovranno ricevere la terza dose. Per la scelta di fare la terza dose a tutti, prosegue Costa, siamo in un ambito in cui la politica deve prendere atto di quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Su questo credo sia opportuno dividere in maniera netta le competenze. La politica si deve assumere la responsabilità di declinare le scelte, ma lo deve fare sulla base di quello che la scienza ci dice. Oggi le indicazioni che abbiamo sono di procedere con la terza dose sui fragili e gli ultrasessantenni. È ragionevole pensare che ci sarà un'estensione. Il compito del Governo è farsi trovare pronto per la somministrazione e sotto questo aspetto garantiamo di esserlo, sia per quanto riguarda la logistica sui territori che per la disponibilità di vaccini. Le indicazioni, conclude Costa, ci dicono che è ragionevole pensare che si andrà verso la terza dose diffusa e lo faremo gradualmente. Mi pare che anche sulla terza dose ci sia una risposta positiva da parte dei cittadini. Dobbiamo continuare affidandoci al loro senso di responsabilità che è stato ampiamente dimostrato sia nel rispetto delle regole sia nella disponibilità sulla vaccinazione. La pagina della cronaca adesso. Sono in corso da questa mattina gli arresti di 14 persone, tra cui i fratelli Sebastiano e Giuseppe Pelle della nota famiglia calabrese che vivono in Germania, ma anche il sequestro di oltre 13 milioni di euro di beni da parte dei militari del Comando della Guardia di Finanza di Milano. Il tutto nell'ambito di indagini collegate e coordinate dalla DDA Lombarda in collaborazione anche con la Procura Europea e l'autorità giudiziaria dell'Alta Baviera. Le inchieste riguardano da un lato una frode fiscale internazionale del settore del commercio di auto di lusso, dall'altro un traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre le fiamme gialle hanno effettuato sequestri di beni mobili, tra cui 13 automobili, immobili e disponibilità finanziarie tra Germania, Italia e Bulgaria per un valore complessivo di oltre 13 milioni, ritenuto il profitto dei reati tributari. Parallelamente è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, tra cui Giuseppe Pelle, coinvolta in un traffico di sostanze stupefacenti, in modo particolare della sostanza di Ascish. Sempre per la cronaca, di recente c'è stata un'operazione nella soveratese contro il traffico di droga ed ora per 28 persone è stato chiesto il processo. Usavano insospettabili minorenni come corrieri con il compito di trasportare la droga per distribuirla agli spacciatori che la rivendevano nelle diverse piazze di spaccio del Soveratese. I sostituti procuratori della distrettuale di Catanzaro, Deborah Rizza e Veronica Calcagno, hanno chiesto il rivea giudizio per 28 indagati coinvolti nell'inchiesta sfociata nell'operazione dei carabinieri Dechis che il 20 aprile scorso ha portato 11 persone in carcere e 10 ai domiciliari, con le accusi a vario titolo di appartenere ad un'associazione delinquere dedita allo spaccio di cocaina e marijuana in diversi paesi del basso Ionio catanzarese. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, gli appartenenti al sodalizio facevano ricorso anche a metodi di pagamento elettronico per sfuggire alle indagini e per contrastare le restrizioni dettate dalle regole anti-Covid. Le attività investigative avviate nel 2019 hanno permesso di ricostruire anche i collegamenti di alcuni degli indagati con i vertici della cosca di Indrangheta dei Gallaci di Guardavalle che ha ramificazioni nel Lazio, in Toscana e in Lombardia. Il GIP Francesco Vittorio Rinaldi ha fissato per il 3 dicembre prossimo l'inizio dell'udienza preliminare. Parte una nuova fase di collaborazione tra il Governo e i Comuni attraverso il contratto istituzionale di sviluppo. Ce n'è uno ad hoc per quanto riguarda proprio la Calabria. Vediamo questo servizio. Il contratto istituzionale di sviluppo per la Calabria inaugura un percorso di cambiamento nelle politiche pubbliche a favore dei territori che vede protagonisti tutti i soggetti coinvolti. Sono liette di registrare l'entusiasmo a ogni livello istituzionale con cui parte questa iniciativa. Apriamo una nuova fase di sinergia e collaborazione grazie alla quale possiamo rendere la Calabria protagonista della ripartenza del Mezzogiorno e del Paese. Così la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dali Lanesci nel corso del primo tavolo sul contratto istituzionale di sviluppo per la Calabria che insieme alla Ministra per il Sud Mara Carfagna hanno presieduto nella sede del Ministero con la partecipazione in videoconferenza degli altri di Casteri e degli altri enti locali coinvolti. Con il CIS adottiamo una cooperazione rafforzata per attuare il piano straordinario di interventi a favore della Calabria e rispondiamo alla volontà di ascoltare le reali esigenze del territorio. Questo strumento, prosegue Dali Lanesci, consente di privilegiare l'approccio bottom-up piuttosto che un intervento calato dall'alto valutando l'entità del finanziamento complessivo sulla base delle istanze locali. Con il CIS, inoltre, l'attuazione dei progetti sarà più rapida perché beneficeranno delle stesse semplificazioni procedurali previste per il PNRR. L'obiettivo che condividiamo è quello di rendere fruibile a tutti l'enorme patrimonio naturale, artistico e culturale della Calabria con particolare riferimento alle minoranze etnolinguistiche, promuovere un turismo esperenziale e favorire anche, in via complementare agli ambiti elencati, i trasporti e la mobilità sostenibile. Stiamo mettendo in campo le risorse e gli strumenti necessari a rendere ancora più attrattiva la Calabria sotto ogni aspetto, a valorizzare in pieno un territorio complesso e affascinante che è ricco di bellezze, ancora da svelare. Portiamo pagina, cambiamo argomento, il lavoro svolto in questi mesi affinché venisse riconosciuto prima lo stato di calamità e poi il risarcimento per i settori colpiti dall'alluvione del 21 novembre 2020. Stiamo parlando della zona del Crotonese, in particolare per l'agricoltura, finalmente trova attuazione con la pubblicazione del decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali. Lo dice il deputato crotonese di Forza Italia, Sergio Torromino, oggi finalmente, a meno di un anno esatto dei fatti alluvionali che colpirono la nostra terra, possiamo dire che con la pubblicazione in gazzetta l'iter adesso è completato, esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto, per niente scontato, dice il parlamentare, segno che con perseveranza e dedizione molto può essere fatto appunto per la nostra terra. Un problema che riguarda un po' tutti è quello dei rifiuti, un po' il caos rifiuti un po' in tutta la Calabria, da Reggio Calabria, dall'area metropolitana fanno sapere che nonostante le difficoltà che ci sono per la raccolta dei rifiuti. Al momento questo problema non desta pesanti preoccupazioni. In tal senso, arrivano le rassicurazioni da Palazzo Alvaro. Nuova sconfitta per la città metropolitana sul già scottante tema dei rifiuti. Il tardi Reggio Calabria, infatti, ha accolto il ricorso del Comune di Palmi guidato dal sindaco Giuseppe Ranuccio contro il piano di caratterizzazione della discarica alla zingara di Meligucca con la contestuale bonifica del sito. Un colpo aggiuntivo per il progetto di autosufficienza del Metro City che, durante la campagna elettorale per le comunali del settembre del 2020, era stata tra i cavalli di battaglia del poi riconfermato sindaco Giuseppe Falco Matà. Salvatore Fuda ha così commentato dispositivo del Tar. Una sentenza che aspettavamo questa del Tar che non infice, non interrompe il percorso che la città metropolitana, insieme con la Regione Calabria dei Comuni, ha avviato per portare a termine i lavori di bonifica della discarica di Meligucca e la costruzione del nuovo impianto di destinazione finale che sempre nel sito è presente. In realtà riguarda questa sentenza o un elemento specifico nel discorso sulla bonifica e non ha assolutamente fermato il procedimento per il completamento dei nuovi lavori. Sul problema si è espresso anche Vincenzo De Matteis, dirigente dell'unità di progetto speciale gestione del ciclo integrato dei rifiuti della città metropolitana. È chiaro che l'avere a disposizione delle discariche di servizio nel territorio della città stessa garantisce un servizio più efficace e più efficiente e con costi anche più adeguati. In questo momento, in assenza di discariche di servizio, comunque la città ha messo in atto una serie di iniziative che sta perseguendo e non hanno avuto alcuna interruzione affinché lo smaltimento possa avvenire in garanzia di continuità così che la gestione stessa degli impianti e il loro esercizio avverrà, continuerà ad avvenire senza soluzione di continuità. I carabinieri forestali hanno denunciato in stato libertà con l'accusa di abuso di ufficio responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Calo Veto. La denuncia è stata fatta a seguito di accertamenti seguiti in merito al taglio di 23 alberi di cipresso avvenuto la scorsa estate nel cimitero comunale. Dagli accertamenti sarebbe emerso che le piante tagliate godevano di buona salute e che non vi erano dunque danni da lesioni evidenti alle tombe poste nelle vicinanze dei cipressi così come aveva segnalato il dirigente comunale. Celebrata a Crutone la giornata della legalità nei giorni scorsi nel ricordo vivissimo di Dodò Gabriele vittima innocente di Indrangheta. Avrebbe compiuto 23 anni Dodò Gabriele ucciso da un agguato di Indrangheta nel 2009 in una sparatoria su un campetto di calcio a Crutone. Organizzato da Libera Parco Pitagore è stata la location per ricordare e festeggiare il compleanno di Dodò ma anche per celebrare la giornata della legalità a ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia. Presenti come sempre i genitori di Dodò Giovanni e Francesca e con loro gli studenti delle scuole crotonesi. Come ogni anno non mancano i bambini non mancano gli insegnanti dei presidi che vogliono partecipare quindi per noi come se Dodò vive anno per anno. Lui avrebbe compiuto 23 anni però è come se li compie realmente perché sono i bambini a farcelo ricordare che lui è presente ed è vivo e cammina attraverso di noi e attraverso di loro. Ci sono i banchi vuoti però dovremmo essere noi noi in la società dobbiamo essere questi banchi a farli riempire perché quello che è successo non deve succedere più per questo il messaggio che voglio mandare a bambini adulti a tutti e a me stesso è di fare la nostra parte perché se tutti noi facciamo la nostra parte sono convinto che tutte le mafie vengano sconfitte. Legate al compleanno di Dodò ci sono tante cose molto grandi molto importanti che forse lui non pensava ma che magari crescendo avrebbe lottato anche lui per queste cose. Mobilità sostenibile andiamo al Parco Nazionale del Pollino vediamo il perché 9 minivan ibridi sono stati consegnati dal presidente del Parco Nazionale del Pollino Mimmo Pappaterra ai sindaci di 9 comuni Alessandria Del Carretto Cerchiera di Calabria Civita Latronico Lauria Mormanno Sandonato di Ninea Sandaga Tadesaro e Vigianello a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni altre consegne ad altri comuni Sì ormai la lotta ai cambiamenti climatici è un imperativo categorico che va assunto non a parole ma con i fatti e quindi noi proprio nel solco della nostra programmazione stiamo lavorando a 360 gradi su questo fronte efficientamento energetico di molti edifici realizzazione di mobilità sostenibile attraverso come sapete realizzazione di ciclovie una gestione forestale sostenibile una lotta attiva agli incendi boschivi e come dire non per ultimo ma in maniera molto importante una mobilità sostenibile attraverso l'utilizzazione di questi mezzi ibridi e noi oggi abbiamo come dire consacrato questa scelta con questa formale consegna in questa fase a nove comuni ma si allargerà anche l'area dei comuni che hanno partecipato a questa iniziativa e finalmente nel nostro territorio cominceremo a dare un segnale anche in questa direzione occorreva nazioni concrete e questa è un'azione concreta del parco la lotta ai cambiamenti climatici per il presidente Pappaterra è un imperativo categorico che va perseguito con ogni mezzo ecco perché ha sottolineato non ci fermeremo solo alla consegna dei minivan stiamo lavorando su diversi segmenti abbiamo messo a rete tutti i nostri musei i nostri centri visite tutte le caserme forestali sono tutti edifici di proprietà pubbliche insieme a questi stiamo mettendo insieme anche i rifugi ad alta quota e tutti quanti saranno efficendati quindi saranno sicuramente collocati all'interno anche di queste strutture tutta una serie di pannelli ai fini di un'attività legata all'energia da fotovoltaico dal parco del pollino a crotone c'è un settore importante quello dell'agro alimentare produzioni veramente importanti e interessanti anche a queste latitudini sta prendendo praticamente sempre più forma a terre di pitagora il distretto del cibo di crotone un altro passo per la nascita del distretto del cibo terre di pitagora finito il percorso di animazione territoriale andato avanti per due anni ora si aspetta il 30 ottobre per presentare il progetto alla regione Calabria il punto è stato fatto al museo dei giardini di pitagora nel corso dell'ultima assemblea c'è stata grande volontà di partecipazione ricorda Valerio Caparelli direttore dell'accademia nazionale italiana tradizioni alimentari perché il maggiore attrattore il cibo in questo caso in cui ruota intorno il distretto deve diventare un elemento di cambio culturale delle varie fasce sociali per creare occupazione e lavoro ma soprattutto una credibilità e una sensibilità che passa attraverso le certificazioni di processi di prodotto che possono mettere i prodotti finalmente alimentari di questo territorio nella disponibilità dei mercati nazionali e internazionali fare rete è una di queste occasioni il distretto del cibo a cui la Camera di Commercio di Gratone ha investito tanto e comunque ha coinvolto l'intero territorio insieme ai colleghi di Confindustria insomma siamo riusciti per fortuna a mettere su una bella organizzazione e fare in modo che finalmente anche la provincia di Gratone abbia il suo distretto del cibo lavoro di squadra per creare occasioni di crescita economica del territorio pitagorico abbiamo chiesto e ottenuto delle osservazioni sul primo bando e quindi abbiamo inserito tutte le attività commerciali le attività commerciali che saranno loro direttamente le beneficiari della parte economica quindi delle agevolazioni non sarà il distretto cioè il distretto è fatto di queste attività e queste attività riceveranno direttamente il beneficio economico tanti soggetti aderenti al distretto e come dice il presidente nazionale di FEN in prese Luca Mancuso occorre stare insieme è il momento di fare squadra e aggregazione in maniera definitiva per il territorio Thomas Pen diceva che la ricchezza sta nell'aggregazione non dei numeri perché l'aggregazione nel lungo tempo premia e i numeri fatti in poco tempo nel tempo si risolvono al distretto è aderito anche l'arci di Ocisi di Grotone Santa Severina che attraverso Don Pasquale Aceto della pastorale del lavoro sottolinea il distretto del cibo ha questa valenza che poi inserito nel nostro territorio lo valorizza perché ne valorizza una degli assi di sviluppo più importanti che è l'agroalimentare la zootecnia dove il nostro territorio ha tante eccellenze ha tanti marchi doc e quindi DOP anche quindi da questo punto di vista si tratta veramente di partire da quello che c'è e di poter seguendo anche la mens dell'Europa che ci chiede una progettazione in questo senso poter cercare di innescare processi virtuosi questo lo è e noi siamo contenti come chiesa di poter sostenerlo aderire e promuoverlo in bocca al lupo dunque quanti stanno lavorando per fare in qualche modo progredire il territorio della provincia di Crotone adesso le previsioni del tempo come sempre a cura di TreviMeteo.com Amici TreviMeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà l'ingresso sull'Italia di una perturbazione atlantica associata a quel centro di bassa pressione che vediamo sull'orda Europa si vede anche la traccia di questa perturbazione da queste macchioline azzure che sono le piogge che porterà però perturbazione molto molto debole controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia tornano un po' di nubi soprattutto regioni settentrionali e versante tirrenico però nuvolosità non particolarmente compatta e insistente solo un continuo via vai di nuvole anche come precipitazioni piogge di debole intensità spesso di breve durata e principalmente sulle regioni settentrionali ma guardate le macchine azzurre sono proprio sporadiche e versante tirrenico quindi in definitiva torno a un pochino di autunno al nord e sulle regioni del medio alto tirreno nuvolosità in aumento qualche goccia di pioggia come dicevamo ma già dal pomeriggio graduale miglioramento sulle regioni di nord ovest meglio sul medio adriato che al sud è tornato per effetto anche di venti che soffiono dai quadranti meridionali in queste zone temperature anche in aumento palermo ad esempio potrebbe toccare anche i 26 gradi per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo 25 minuti dopo le 14 è tutto per il momento il TG torna questa sera ma restate sul 18 tra pochissimo prima un po' di pubblicità e poi torna il principe dello sport Luigi Saporito con il suo smart sport noi torniamo stasera arrivederci